Attenzione sta per cominciare! K-Production! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay delle follie dell'imperatore! Bene ragazzi, oggi faremo l'ultimo livello del primo posto che abbiamo visto, che è il villaggio, capitolo 4. E come vedete ci troviamo all'estremità del villaggio, nella parte più bassa. Adesso cominciamo! Caricamento in corso. E qua vediamo già che ci sarà Isma, la cattiva di questo gioco e avremo appunto il combattimento contro il primo vero boss, diciamo così. Qua intanto... Ah, c'è una crepa! Già cominciamo con un segreto. Oh, questo segreto bisogna dare i calci a tutti i conigli. Vediamo. Oh, monete a palagna. Anche in questo livello ci sono 55... 55 monete, vediamo un po' cosa... Se vuoi uscire dal villaggio, segui i miei padre. Va bene, ti ascolto, che devo fare? Ora, fate caso a quello che faremo in questo livello. Restami vicino, ma non fatti vedere. Se vieni scoperto, ti ritroverai nella stella più vicina. Stai indietro, quando strescio divento invisibile. Cusco, che fai qui? Ti ho detto di aspettarmi alla capanna. Io sono l'imperatore, vado dove mi pare e piace. Sul serio, resta nel villaggio. La giungla è troppo pericolosa. Ci sono scorpioni, giaguani e ragni. È quello che mi aspettavo da un contadino ciccione come te. Aspettami qui. Se cerchi di seguirmi, saranno guai. Come vuoi, tonto. Guardate un po', ogni volta pace si gira per vedere se noi stiamo messi nella gabbia. Ecco, quando si gira, noi dobbiamo stare nella gabbia o non dobbiamo farci vedere. Ecco, adesso non ci vede, quindi non è un problema per noi. Attenzione. Dobbiamo pedinarlo, se no, avremo problemi. Tanto questo qui muore. Non so manco dove è andato. Ah, eccolo là. Non mi vedi? Non mi vedi, non mi vedi. Fattene pace, vai. Cicciabamba. No, non mi vedi. Qua è tutto un fatto di usare bene la telecamera. Ecco perché bisogna imparare bene i tasti. Non mi vedi. Non mi vedi. Perfetto. Adesso si è allontanato. Ecco, attenzione. Siamo già a 28 di 55. Dobbiamo fare caso. No. Questa è un'altra stalla, quindi. Sto nella stalla, eh. Niente di strano. Non mi vedi, non mi vedi. Non mi vedrai mai. Siamo a 32, vai. Cammina pace, cicciabamba. No. Se qualcuno vuole contare, forse ogni 8 secondi si gira. Probabile. No. Non mi vedi, non mi vedi. Dov'è che sei? Oh, dov'è? Sparito. Mi sembra che entri in questa casa, lui. Ora però vediamo quest'altro segreto. Siamo già arrivati alle 55 monete, più osacchiata. Perfetto. Qui non c'è nient'altro. A post. E attenzione, siamo arrivati al combattimento contro il boss. Ah, Cusco. Vediamo come te la cavi con le mie pozioni bomba. E no, non ti trasformeranno in una bomba. Ti uccideranno e così sarai morto, morto, morto. Punto di controllo. Ora il fatto è che bisogna fargli distruggere tutti i pulsanti a Isma. Evitando tutti i colpi. E l'abbiamo già fatto. Si è aperto per la giungela. La tua carriera di capo è chiusa, Isma. Sei spazzatura. Addio. E niente ragazzi. E quindi è finito qui questo livello. Molto veloce, avete visto. Niente di che. Ma dalla prossima volta cambieremo proprio mondo. Perché andremo nella giungla. E là ci aspettano cose già molto più complicate. rispetto a quello che avete visto sinora. Bene ragazzi, ci rivediamo ad un prossimo video.